Dopo che le marinerie hanno già perso un fatturato pari a 30 milioni di euro a causa dell'emergenza Covid, la drastica riduzione delle giornate di pesca mette a rischio il futuro della flotta strascico-pugliese. Per questo Coldiretti Impresa Pesca chiede al nuovo governo di affrontare quanto prima il problema delle giornate di pesca, perché il settore è fortemente in crisi. Coldiretti Impresa Pesca chiede al nuovo governo di affrontare quanto prima il problema delle giornate di pesca, passate da 160 a 130 annue, rinegoziando la riduzione delle giornate di pesca oppure dando coperture di sostegno alle imprese costrette alla inattività. Per l'associazione la drastica riduzione delle giornate mette a rischio il futuro della flotta strascico-pugliese, che rappresenta il segmento più importante per l'occupazione e la produzione ittica, dopo che le marinerie hanno già perso un fatturato pari a 30 milioni di euro a causa dell'emergenza Covid. È necessario per l'associazione valutare il danno che le restrizioni dovute alla pandemia stanno causando alla filiera. La denuncia di Coldiretti Impresa Pesca è successiva alla pubblicazione del decreto della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, che impone un nuovo taglio all'attività di pesca nei mari italiani. La situazione delle marinerie di Puglia è molto grave per il crollo della domanda sui mercati italiani ed esteri a causa del Covid, con l'azzeramento degli ordini per la chiusura a 7 giorni su 7 dei ristoranti, evidenzia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. L'effetto della pandemia è stato il crollo delle vendite del pesce fresco a favore del prodotto surgelato, mentre 8 pesci su 10 consumati sono stranieri, spesso senza che i consumatori lo sappiano. Una crisi, quella del settore ittico, che si trascina da 30 anni. In un mercato, quello del consumo del pesce, che aumenta ma sempre più in mano alle importazioni. Coldiretti Impresa Pesca sottolinea che la flotta peschereccia pugliese ha perso più di un terzo delle imprese e 18.000 posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni passate dal 27 al 33%. Di assoluto rilievo i numeri del settore in Puglia, conclude Coldiretti, il cui valore economico è pari all'1% del PIL pugliese e arriva fino al 3,5% se si considera l'intero indotto. Conta 5.000 addetti, 10 impianti di acquacoltura e miti di ricoltura. Le aree evocate sono soprattutto Manfredonia, Molfetta, Sudbarese e Salento.